Prima campanella d'Italia nelle scuole altotesine, scuole altotesine che sono anche prime in alcuni importanti progetti di formazione e inclusione. Siamo i primi oggi a iniziare il mondo della scuola, 89.000 sono gli studenti altotesini che al suono della campanella oggi hanno accolto i docenti. Un inizio d'anno che è molto interessante e molto ricco anche per alcuni aspetti e novità. Dobbiamo fare qualcosa di più e lo facciamo attraverso alcune convenzioni, per esempio con la Croce Rossa ne andiamo orgogliosi per fare in modo che le tecniche di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore vengano messe a disposizione di più studenti possibili per creare una società migliore, ma anche sempre con loro lo sviluppo delle strategie e studi sullo stile di vita sano anche in termini di alimentazione e di sport. Cosa che riprendiamo con la collaborazione con il Banco Alimentare? Siamo i primi a partire e per la prima volta sperimentiamo il teatro curricolare in una nostra scuola media, secondaria di primo grado. È un'esperienza prima a livello nazionale e noi siamo veramente contenti di poter introdurre il teatro come disciplina nelle nostre scuole.